Musica Benvenuti oggi, 21 novembre. Si festeggia la presentazione dell'Ambiata Maria Vergine. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo il pittore René Magritte. Ed ora, passiamo all'oroscopo. Ariete, sappiate valorizzare bene questa giornata, avete idee da mettere in atto subito, molta tenacia, sono favorevoli anche gli spostamenti, contatti importanti e stimolanti. Toro, la via migliore da seguire oggi è quella suggerita dall'intuito, anche se sono un po' insolita per il vostro buonsenso. Sospetti e gelosie in amore, non parlatene per ora. Gemelli L'intuito vi guiderà nella scelta fra due proposte, entrambe allettanti. Inserate una persona rimarrà affascinata dalla vostra personalità dolce e accomodante. Cancro Leone Vergine Un breve viaggio in compagnia di chi amatevi potrebbe rilassare, ma non dovete dimenticare per questo i vostri impegni verso la famiglia. Un po' di svago in serata. Bilancia Avete delle buone motivazioni, anche se vi saranno degli ostacoli da superare, riuscirete meglio del previsto. Saprete organizzare bene il programma serale. Scorpione Acquario Oggi vi sentirete un po' tesi, superate questa sensazione dedicandovi a quegli impegni che più vi piacciono. Non avviate nuovi programmi. Comprensione Pesci La giornata avrà un avvio piuttosto movimentato e questo sarà in contrasto con la sensazione di stanchezza con la quale vi sveglierete. Riposo, discussioni in amore. Proverbi del giorno La donna, il fuoco e il mare fanno l'uomo rischiare. Questo è tutto per oggi. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS